Salve cari amici avventurieri, benvenuti ad una nuova puntata del vostro podcast. Prima di cominciare, volevo proporvi un piccolo progetto al quale sto lavorando, anche se è ancora agli inizi. Il progetto si intitola Rosso Natale ed è basato su un racconto che ho scritto. Si tratta di un thriller ambientato durante una festa di Natale in un'università che gradualmente comincia ad assumere contorni sempre più sinistri. Perché tutti gli invitati a questa festa cominciano piano piano ad essere uccisi. Il progetto è ancora in fase iniziale, nel senso che non è ancora pronto per essere pubblicato, perché siamo ancora abbastanza in alto mare. A questo proposito, se qualcuno di voi andasse di collaborare con questo progetto, non deve fare altro che scrivere un commento di risposta sotto al video che verrà pubblicato relativo a questa puntata. Il titolo in cui volevo parlare oggi è il terzo capitolo di una trilogia che io personalmente ho trovato molto interessante e che forse qualcun altro potrebbe anche aver sentito nominare. Stiamo parlando di un titolo del 1999 pubblicato da Sierra Entertainment ed è Gabriel Knight 3, il mistero di Renne Chateau o anche il mistero bagnato di sangue. Ecco, premetto che per comprendere bene la trama di questo gioco è necessario leggere attentamente anche la graphic novel che si trova all'interno della confezione originale. Dato che la storia del gioco ci porta diciamo a cose fatte. Comunque la trama risulta in breve è questa. Gabriel viene invitato da un amico, il principe James, ad una festa per la nascita del figlio nel suo castello. Durante il ricevimento l'uomo esprime a Gabriel le sue preoccupazioni per via degli attacchi, di ripetuti attacchi da parte di creature che lui definisce visitatori notturni. Ed infatti proprio durante la festa queste creature irrompono nel palazzo e rapiscono il figlio dell'uomo. Le tracce porteranno Gabriel in una stazione e da lì in un treno che è proprio da dove parte la nostra storia. Parlando col controllore verremo a sapere che il treno è direto niente meno che a Rennes-le-Chateau. La famosa cittadina francese è famosa per, tra le altre cose, per le credenze relative al tesoro dei Templari e al Santo Graal. Che infatti si mescoleranno alla storia principale che ci svela che i visitatori notturni sono creature che noi tutti conosciamo molto bene dalla letteratura e dal cinema. Ma di cui parlerò in modo più approfondito nella parte spoiler. Allora, la grafica non è un granché, nel senso che abbiamo a che fare con poligoni, con una grafica di tipo poligonale, ancora piuttosto grezza. Ma considerando che ci troviamo appunto di fronte a un titolo del 1999, piuttosto discreta per l'epoca. Anche le ambientazioni forse possono risultare un po' spoglie e malfatte, soprattutto con gli occhi di un giocatore moderno. Ma appunto, visto che stiamo parlando di un titolo di 16 anni fa, per i tempi la tecnologia era abbastanza avanti. Gli enigmi, ecco, per la prima parte del gioco con Gabriel avremo solo a che fare con enigmi di stampo, con enigmi prettamente di tipo classico, che hanno a che fare con il recupero degli oggetti e la loro interazione all'interno dell'inventario. Avremo solo una piccola sezione stealth relativa ad un passaggio iniziale, che, onestamente, se devo stare sincero, nella seconda run, diciamo così, di gioco, mi ha frenato e mi ha convinto a mollare, perché non ricordavo fosse così difficile. Con l'arrivo di Grace, l'assistente di Gabriel, nella seconda parte, ci troveremo invece di fronte ad enigmi più complicati, che coinvolgeranno un assistente digitale chiamato Sydney. E avremo a che fare con enigmi di stampo più prettamente logico, in quanto si tratterà di tracciare, ad esempio, dei punti su una cartina in corrispondenza di determinate zone e di unirle tracciando determinate figure. Questo richiederà un po' di pazienza e concentrazione, dal momento che, se non toccheremo i punti tracciati con queste figure, non sarà ovviamente possibile proseguire con l'avventura. E quindi questo potrebbe richiedere un po' di pratica e risultare un po' frustrante. Ma è l'unica parentesi, diciamo, un po' ostica del gioco. L'interfaccia è molto particolare, ecco, perché si attiva con la pressione del tasto destro, con l'apertura di un piccolo menu che può comparire in qualunque parte dello scenario e nel quale possiamo trovare le classiche opzioni, ma possiamo avere anche la presenza una volta recuperato un oggetto dell'oggetto stesso. esempio, se noi in una parte del gioco recuperiamo un dato oggetto, poi un dato oggetto ci troveremo nella condizione di avere quell'oggetto come bottone nel menu. e quindi dovremo, per posarlo, dovremo cliccare sul bottone raffigurante l'oggetto per interagire. Ecco, so che la spiegazione non è esattamente il massimo, ma approfondiremo meglio il concetto nella parte spoiler. Il doppiaggio, ecco, abbiamo a che fare con un doppiaggio in italiano, perché, ovviamente, a quei tempi, sapete tutti che probabilmente il doppiaggio non era così costoso come adesso, con voci abbastanza adatte ai personaggi, e dialoghi discretamente recitati, se così possiamo dire. Anche il sonoro è stupendo, perché anche qui, come nel capitolo precedente, abbiamo la presenza delle musiche composte da Robert Hons, che più tardi diventerà anche il compagno della sceneggiatrice Jane Jensen, se non lo era già all'epoca. Comunque, tracce molto coinvolgenti, molto belle, a partire dal tema principale, che è possibile sentire già dai titoli di testa del gioco. Concludendo, Gabriel Knight 3 si dimostra sicuramente un buon titolo, per quanto probabilmente la tecnologia di allora confrontata con la tecnologia di oggi possa fare storcere un po' il naso, dal momento che oggi noi giocatori siamo abituati ad un impianto tecnico molto più raffinato, e fatto molto meglio rispetto alle avventure degli anni 90. Bene, io ho concluso, adesso vorrei fare una piccola parte spoiler, quindi se non avete ancora giocato il titolo, vi sconsiglio di proseguire con l'ascolto di questa recensione, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Se invece ci avete giocato e volete sentire la mia più nello specifico, gli spade iniziano fra 3, 2, 1... Allora, cominciamo col dire che in questo gioco avremo a che fare con creature molto particolari, appartenenti sempre alla sfera del sovrannaturale, ovvero i vampiri. non lo so, è una cosa che forse ai giorni nostri non è poi così non è poi così originale, ma che sicuramente 16 anni fa poteva essere un po', forse un po' un azzardo, o meglio, 16 anni fa poteva esserci ancora l'immagine del vampiro come creatura oscura, non è ancora contaminata dalle influenze alla Twilight portate dal cinema odierno. per quanto riguarda l'enigma di cui parlavo prima, ecco, non si tratta di un vero proprio enigma, ma si tratta piuttosto della, eh, di una sezione stealth da affrontare per distrarre un personaggio. Ci verrà richiesto in un determinato punto del, dell'avventura di procurarci una motocicletta. L'unico modo per procurarsela sarà quella di spacciarsi per un partecipante al giro turistico e a sua volta l'unico modo per farlo sarà rubare i documenti di un, di un vero partecipante e sceglie, eh, Gabriel sceglierà di provare, diciamo, questo trucchetto con il suo vecchio amico Mosley. Noi dovremo semplicemente, tra virgolette, rubare una caramella dal banco, dal bancone della Deception, suonare il campanello, andare veloce, andare molto veloce nel, nella zona delle stanze, mettere la caramella su un bancone, aspettare che Mosley esca per mangiarla e esattamente in quei pochi secondi dovremo avvicinarci a lui per rubargli il portafoglio e il passaporto. Un passaggio che mi ha creato molte difficoltà alla seconda, alla seconda run di gioco costringendomi addirittura a mollarlo. Ma a parte questo, devo dire di essermi trovato abbastanza bene, soprattutto perché questo è un titolo che per quanto possa apparire tra virgolette un po' vecchio, è comunque molto ben fatto e vi consiglio di procurarvelo magari andandolo ad acquistare online perché penso che sia l'unico modo per poterlo trovare. Bene, con questo io spero di non avervi annoiato troppo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!